Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi Oggi vi spiego dove trovare la fiamma della frenesia Non c'era neanche bisogno che mettessi la voce sotto questo video Tanto bastava farlo e poi caricarlo Ma l'ho fatto tanto per dirvi che di questi incantesimi della frenesia Ne esistono parecchi e se volete ci sono altri 3 dei miei video Dove faccio vedere la posizione esatta dove trovare gli altri incantesimi della frenesia Allora il posto è questo Mi raccomando fate anche attenzione qui perché io questo posto l'ho dato per scontato E niente sono andato sempre avanti non me ne sono mai accorto di questo villaggio E niente andate da questa parte salete sempre sulla collina Se volete divertirvi a uccidere questi tizi che stanno schiattando non lo so cosa stanno facendo Ma più avanti lì nella capanna troverete uno scudo molto bello Non è un gran che ma è molto bello questo scudo Sì a mandorla del fuoco molto bello E niente poi avanzate sempre più avanti Io un attimo che ammazzo questi se no mi seguono fino alla chiese Proprio lì lì dentro nella chiesetta Ci sono tantissimi topia c'è anche il topo enorme E proprio lì proprio qua proprio qua c'è la fiamma della frenesia E lì c'è anche una lacrima se vi interessa Tanto a me neanche serve perché ho già potenziato le ampolle Fino al livello 12 E adesso andiamo a provare questo incantesimo Ok tanto non mi resta che mettere memorizzazione degli incantesimi L'equipaggio e vediamo un po' che cosa fa Memorezza incantesimo Guardate un po' quanti incantesimi c'ho Se volete trovarli basta guardare alcune delle mie guide Avete visto? C'ho 4 di incantesimi della frenesia E niente alcuni sono tutti uguali Ma hanno una forma diversa Guardate un po' questo cosa fa Sempre la stessa cosa Ad esempio se lo usi sempre poi ti viene la follia Quindi cerca di stare attento a non usarlo troppo Ed è molto letale se potenzi il sigillo E anche l'intelligenza, la fede E niente tutto qua questo fa Quindi ragazzi grazie a tutti per questa visione Se il video vi è stato utilissimo lasciate like Attivate anche la campanellina per altri video su Welder Ring Oppure altri video tutorial su moltissime altre cose Perché io c'ho altri video Beh video sulla tecnologia anche su Windows Quindi ti consiglio anche di guardarli E quindi grazie a tutti per questa visione Ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao 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 Ciao